Sicuramente la grande rivoluzione ortodontica è quella legata alla scansione intraorale. Ma oggi vi voglio parlare di un altro tipo di scansione, la scansione facciale, cioè questa immagine 3D che noi possiamo ottenere con degli scan facciali che possono essere anche oggetti molto semplici da applicare sul nostro smartphone o essere molto più elaborati e complessi. Però anche lì cosa ne facciamo di queste immagini? Queste immagini non devono soltanto fornirci un'idea di com'è il paziente, ma devono essere utilizzate come mezzo diagnostico. Allora anche sulla scansione facciale si possono applicare delle misurazioni cefalometriche che ci danno un inquadramento nosologico del tipo di profilo, del tipo di proporzioni facciali che ha il nostro paziente. Questo è un progetto molto importante a mio avviso perché potrebbe veramente consentire agli ortodontisti di fare una diagnosi e soprattutto non dare radiazioni al paziente, soprattutto se pensiamo ai pazienti in corso di crescita. Si chiama infatti il progetto Radiation Free. Grazie a tutti.